Ma con tanti dipendenti della forestale com'è pensabile che si possano assumere altre persone? Se lo chiede a Vittorio il referente di tale dei valori Marco Piccitto in una riflessione dai toni amari a mettere in allarme i dipietristi la recente decisione dell'assessorato regionale all'agricoltura di possibili nuova assunzione alla riserva. Si parla tanto di sprechi da eliminare, rimarcono i dipietristi e invece si assiste poi a fatti del genere la forestale di Vittorio e la conclusione a numerosi operatori impiegati per cui che senso ha assumere altre persone? Ed è proprio quello che noi abbiamo voluto denunziare. La Sicilia si sta presentando alle elezioni regionali con un quadro veramente disastrato e molto ambiguo e questo è il preludio di quello che dovrà ancora accadere e che si è perpetrato per troppi anni e il motivo perché siamo giunti qua in questo punto dove la crisi ormai ci sta veramente attanaiando. È impensabile andare a fare ulteriori sprechi di denaro sotto forma di volontariato ma con uno stipendio che viene recepito di 45 euro al giorno allora non è volontariato e 500 persone costeranno all'incirca più di 100 mila euro. E allora io penso che quello che viene fatto come classico stile politico per racimolare voti non può essere oggi ancora attuabile. Gli italiani, i siciliani e i vittoriesi tutti dobbiamo capire che la politica deve cambiare. Non è questa la politica che può portare a risorgere una terra che avrebbe tanto da poter dare e tanto da poter recuperare ma così di certo non lo potrà fare mai. Con questa denuncia dunque cercate di muovere le acque? Sensibilizzare gli animi, soprattutto dei politici, della classe politica che la deve finire di usare il classico stile vecchio, ormai obsoleto che ha trucidato generazioni di siciliani. Oggi i siciliani abbiamo bisogno di sperare in un futuro e la strada quella giusta sarebbe di tagliare sia i costi della politica sia i costi superflui di clientelismo. Se questo non si farà l'Italia e la Sicilia non si potranno riprendere e noi non ci possiamo stare perché i padri di oggi quindi dei ragazzi che domani avranno un futuro siamo noi.